Ultimatum di Napolitano ai partiti, legge elettorale prima della sentenza della consulta sul porcellum, ma l'accordo non c'è. E così il Presidente della Repubblica si prepara ad autorizzare un decreto e convoca un vertice senza le opposizioni per mettere tutti d'accordo su un super porcellum. È una corsa contro il tempo infatti quella che dovrebbe negli intenti del Colle concludersi entro il 3 dicembre, quando la consulta si pronuncerà appunto sul porcellum. E così da Napolitano vanno i ministri preposti. Quagliariello, a capo del Dicastero delle Riforme, il suo omologo dei rapporti con il Parlamento Franceschini, con loro anche il capigruppo di maggioranza al Senato e il Presidente della Commissione Affari Costituzionali. È un colpo di Stato, gridano le opposizioni. Chiederemo l'impeachment per Napolitano, guida la protesta delle opposizioni leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo. Sicuramente ci saranno degli inghippi. Ma con chi parla Napolitano? Con quagliariello? Si domanda Grillo. Ma con chi si riunisce Napolitano? Con quattro persone? Prosegue. Ma stiamo scherzando, dice Grillo. Un'operazione antidemocrazia, insomma, bolla il leader dei 5 Stelle. Non siamo una monarchia, una repubblica presidenziale, protestano i capigruppo del Movimento 5 Stelle. A parlare, per la Lega, Roberto Calderoli, che boccia l'intervento di Napolitano. È inaudito l'intervento di un capo dello Stato su un argomento di materia parlamentare. La Lega chiede pertanto di essere convocata. Negativa anche Selle sulla questione definita come il rituale. Alla fine le opposizioni ce la fanno a far sentire la loro voce e saranno ricevute anche loro nella giornata di oggi. Grazie a tutti.